La mamma pensava di essere inginta, invece era solo costipata, non andava al bagno da sette giorni, e poi è uscita sta roba, così, uno str***o grande così. Ti rendi conto di quello che stai dicendo? No. Lasciatemi banare col mausolino in mano. Non è un gioco divertente. Mai è successo questa cosa a me? Vabbè, ma perché lo devi... Ma anche se fosse vero e non è vero, perché lo devi dire qua stasera in diretta? Ma cosa pensi che io sia la tua segretaria, idiota? Ma sai quanti calci nel culo che ti do? Ma vaffan***a chi te mu... Lo stai dicendo a me? Muori brutta bestia. No, lo stai dicendo a me? Che un camion ti passi sopra. Ma lo stai dicendo a me? Porco! Porco! Putt***o! No! Non puoi dire parolacce nella mia trasmissione! Non dire... No! Si inventa una scusa migliore! Non vieni qua in diretta in una trasmissione a raccontare i fatti tuoi. Ma vai via! No, io non vado via di qua. Vai via! No, io non vado via nella mia trasmissione! Vai via! Non fai ridere! Ancora! 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 Ma vaffan***a! Lo stai dicendo a me? Ma vaffan***a! Ma lo stai dicendo a me? Ma vaffan***a! Pubblicità.